Siamo qui con Ghirotto, tecnico della Latina, dopo questo 2-5, la seconda giornata del campionato di Riavera, contro il Milan. La Latina è rimasta in partita fino all'1-3, ma che ha comunque fatto vedere buone cose anche contro i rossoneri. Sì, ci teniamo la prestazione con le lacune che conosciamo e conoscevamo, sulle quali stiamo lavorando, però ci portiamo a casa tanta consapevolezza che facciamo già molte altre cose buone, sia individualmente che collettivamente. E quindi il test è stato un test importante, la lettura è giusta, io dico addirittura anche sul 4-1, poterla riaprire 4-2, 4-3, con l'infrazione numerica del Milan, forse la partita a livello nervoso poteva essere poi favorevole a noi. Magari sempre sconfitti, però con un risultato meno ampio, che per chi non ha visto la partita e leggerà solamente il dato, può sembrare una partita diversa. Un inizio di stagione comunque molto positivo, cioè un Vodila Cup giocato ad alto livello, una prima giornata contro il Trapani 0-6, una grandissima prestazione fatta contro Lazio. Io penso che questa primavera, quest'anno, possa togliersi delle belle soddisfazioni. Sì, è un gruppo, io li peso a distanza di circa 20 giorni, questo ha una buona base di condivisione, e poi è condito, perché no, anche da alcuni buoni calciatori, che a mio avviso potrebbero entrare nel panorama professionistico.